Grande affluenza a Ballo della Lucania per la due giorni dedicata all'Open Day, giornata vaccinale, senza prenotazione dei 60 ai 79 anni. Il tutto si è svolto al punto vaccinale dell'ospedale San Luca di Ballo della Lucania, sabato 1 maggio e domenica 2 maggio, dove è stato possibile sottoporsi alla vaccinazione senza prenotazione. Sono state due giornate straordinarie di somministrazione riservate e non prenotate. Per gli utenti che si sono presentati per essere sottoposti a vaccinazione è stato sufficiente presentarsi muniti di tessera sanitaria. In compagnia di due signori che hanno appena fatto il vaccino. Innanzitutto, buongiorno, come vi chiamate? Buongiorno a voi. Giuseppe. Giuseppe? E' Andonietta. Abbiamo sentito, siamo corsi subito e abbiamo fatto la fila. Bene, quindi le emozioni che avete provato finalmente nel fare questo vaccino che è importante per prevenire il contagio. Sì, siamo contenti e ci siamo tolti un beso. Un beso, quindi un po' emozionati, tante persone? Sì, sì, c'erano tante. E poi gli operatori tutti gentilissimi e bravissimi. Quindi facciamo un applauso all'organizzazione. All'ospedale, sì. Benissimo, il richiamo quando... Il 22 di questo mese. Di questo mese, va bene. Io vi ringrazio della vostra testimonianza e vi auguro buona giornata. Grazie, sia pure a te. Ciao.